a niente ciao a tutte ragazze questo qua è un get ready with me che vedete anche stavolta con la musica in sottofondo vi lascio al video spero che vi piaccia e spero vi tenga più che altro compagnia ci vediamo al prossimo video ciao bellissime ah vabbè ricordate scrivetevi, commentate commentate per mi interessa un sacco voglio sapere sempre i vostri pensierini o così vi ho video che consigliate di farmi niente dai vi lascio davvero il video ciao ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti a tutti ciao a tutti 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 a tutti